Nel prossimo video c'è un errore, infatti nel calcolo della massa MB dividendo il peso per l'accelerazione di gravità invece di scrivere l'unità di misura a kg ho lasciato Newton, invece il risultato corretto è 1276 kg cioè approssimando 1,3 per 10 alla 3 kg. Naturalmente io l'errore ce l'avevo messo apposta per vedere se voi studenti ve ne accorgevate, ovviamente. A parte gli scherzi ringrazio lo studente che si è accorto dell'errore e me l'ha segnalato.